è il mio gruppo che mi ha seguito in questa idea folle sicuramente uno dei componenti del gruppo non ci sente e quindi per lui non capisce cosa facciamo sente solo css lo so, anche se sono vicino si chiama il grande Mazinga 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 Vengo, i venio del telebre del mare da la morte santi in la sceciaria con i sui cuñato oggi Mazinga 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 Grazie a tutti! Oh! Cicchia! Batti! Bravo! Vieni la cicchia, ma! Non c'è che parte più, ti c'è ma cicchia! Ma cicchia! Bravo! Oh, vieni bene, i pescioi è tutto! Oh, vieni bene, i pescioi è tutto! 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 Non c'è il ruolo. Bravo! C'è il ruolo! Grazie! Grande madre!